buongiorno da luca gesce telefonia qui abbiamo un connettore di un samsung s3 nio da sostituire il cliente ce l'ha portato dicendo che non carica più in effetti guardandolo all'interno è stato sforzato molto, è stato danneggiato adesso sistemiamo un attimo l'inquadratura poi farò vedere la sostituzione a presto a presto Grazie a tutti. Ok, ora procediamo con la pulizia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 Andiamo un'occhiata anche dalla parte opposta. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora diamo una pulita tutta la zona. Il gioco è fatto. Buona giornata da Luca Gessi Telefonia.